ciao amici la pancia gonfia è diventata una vera e propria epidemia tanto che oltre il 50 per cento degli italiani adulti dichiara di soffrire di gonfiore addominale più di una volta a settimana per noi donne poi ancora peggio certo ma anche tra gli uomini è sempre più frequente la colpa è di un'alimentazione scorretta sia come tempi che come combinazioni si mangia di fretta a orari sballati magari senza avere digerito il pasto precedente e si mescolano cibi che causano gonfiore per non parlare del consumo di zuccheri che fermentano più di tutti gli altri cibi simo dammi una mano o con quest'aria prendo il volo certo ecco le mie pisane anti gonfiore 1 infuso di finocchio il finocchio rimedio anti gonfiore usato da sempre in moltissime culture ingredienti due cucchiai di semi di finocchio una tazza di acqua preparazione fare bollire l'acqua aggiungere i semi di finocchio bollire per 5 minuti spegnere e lasciare coperto per altri 10 minuti bere caldo o tiepido 2 zenzero e menta lo zenzero ha un'azione carminativa favorisce la digestione la menta allevia crampi nausea aiuta a sbloccare la digestione lenta ingredienti 5 centimetri di zenzero 6 fogli di menta una tazza d'acqua una tazza d'acqua preparazione tagliare lo zenzero a fettine fare bollire l'acqua aggiungere lo zenzero e la menta bollire per 5 minuti lasciare intiepidire e bere subito 3 zenzero e cannella lo zenzero può essere abbinato ad altre spezie per variare il gusto la cannella aiuta a ridurre il senso di stanchezza e pesantezza dopo mangiato si può aggiungere del miele per addolcire il sapore piccante ingredienti 5 centimetri di zenzero 2 stecche di cannella un cucchiaino di miele opzionale una tazza d'acqua preparazione far bollire l'acqua con la cannella aggiungere lo zenzero bollire ancora 5 minuti lasciare intiepidire a piacere aggiungere il miele 4 cumino il cumino è una spezia ayurvedica usatissima come ingrediente per la digestione si può assumere come tisana durante o dopo il pasto per digerire meglio ingredienti un cucchiaio di semi di cumino una tazza d'acqua preparazione far bollire l'acqua aggiungere i semi di cumino bollire per 5 minuti spegnere e lasciare coperto per altri 5 minuti bere caldo o tiepido anice e camomilla i semi di anice venivano masticati dalle nostre nonne come digestivo naturale la camomilla riduce le infiammazioni dello stomaco che causano aria e gas ingredienti due cucchiaini di anice stellato un cucchiaio di fiori di camomilla una tazza d'acqua preparazione far bollire l'acqua aggiungere anice e camomilla bollire per altri 5 minuti lasciare intiepidire filtrare e bere grazie simo ora siamo più sgonfi tutti e due bere gli infusi è un modo piacevole di volersi bene provate anche voi amici e fatemi sapere com'è andata se vuoi approfondire questo argomento e sapere come farti seguire da me per avere i massimi risultati senza commettere i classici errori del fai da te clicca sul link in descrizione e scopri il mio programma dedicato ed eccolo il regalino di oggi lo potete scaricare gratis dalla descrizione qui sotto dalla piccola i qui in alto la salute è importante anche per i vostri amici condividete questo video può essere utile vivi consapevole vivi meglio con la naturopatia di simona vignali